Rispetto alle previsioni di bilancio, che erano intorno ai 4 milioni di euro, abbiamo incassato 2 milioni in più. Questo vuol dire che c'è in città una ripresa poderosa del turismo. Napoli è una meta molto ambita, abbiamo veramente avuto un anno in cui le strutture ricettive della città sono state mediamente occupate con livelli altissimi che non si vedevano da 10-15 anni. Tra l'altro questo fine settimana abbiamo avuto nella città una fiumana umana incontenibile, come davvero non si vedevano da molti lustri, tanti visitatori. All'aeroporto di Capodichino abbiamo percentuale di incremento del 30% dei turisti e ora il 60% di questo incremento si ferma a Napoli. Speriamo di fare un Natale e un Capodanno veramente oltre il tutto esaurito. In un momento così propizio per i flussi turistici, un'iniziativa di Confesercenti nazionale ha voluto fare un bilancio della tassa di soggiorno riscossa negli ultimi tre anni in Italia. Si tratta di quasi 800 milioni di euro. La cifra proviene dal dossier presentato stamattina a Palazzo San Giacomo, nel quale si avanzano anche numerose proposte affinché queste risorse siano spese soprattutto per incrementare il settore. La tassa può essere pagata come succede in tante altre parti del mondo, ma l'importo dell'incasso della tassa di soggiorno deve essere tutta spesa per infrastruttura, per informazione al turismo e per azioni di marketing, per andare a cercare di convincere quello che è il mondo del turismo in Europa, per farlo venire nelle nostre città. Facciamo un ragionamento complessivo che possa poi moltiplicare le risorse e poi anche il comune ha la possibilità di avere ulteriori importi da destinare e lo sviluppo del turismo, quindi dalle strutture fino alle attività collaterali. Noi abbiamo utilizzato questo 30% della tassa di soggiorno per fare delle cose, credo, molto significative. Innanzitutto delle importanti campagne promozionali, spot in tutta Italia, abbiamo molto usato il programma Centro Stazioni. Siamo stati presenti in modo significativo in tutte le principali borse del turismo, per la prima volta di nuovo come città di Napoli e non dentro un contesto regionale. Abbiamo fatto un'esperienza molto interessante con la protezione civile, che è Welcome to Naples, in cui abbiamo impegnato tanti ragazzi della protezione civile ogni fine settimana. Poi abbiamo in corso una gara per un portale turistico in sette lingue, una grande e importante gara per i materiali turistici, cioè piantine, segnaletica. Abbiamo riattivato tutti i nostri luoghi dei servizi igienici pubblici. Insomma, cosa si stia facendo? Si è fatto un positivo e importante lavoro.